La speranza di vita è minacciata dal covid, lo dicono i dati Istat. Nel 2020 si è ridotta di 1,2 anni a causa della pandemia, attestandosi 82 anni, 79,7 per gli uomini e 84,4 per le donne. Non è un caso che a Bergamo, Cremone e Lodi, tra le città più colpite inizialmente dal virus, la diminuzione va dai 4,3 ai 4,5 anni per gli uomini. Per le donne si va da almeno 3,2 anni per Bergamo e 2,9 anni per Cremone e Lodi. L'unica provincia italiana non aver subito peggioramenti è Siena.